Nonostante la pioggia battente, anche oggi i lavoratori del complesso Lenaia di Di Pescara sono in presidio davanti alle piscine per ricordare a tutti che l'impianto è ancora chiuso e che sono in attesa di conoscere il loro futuro occupazionale. Ieri la cordata bruzzese della Pinguino & Company si è giudicata alla gestione temporanea della struttura che potrebbe finalmente riaprire i battenti entro metà giugno. Il rappresentante dei lavoratori Piero Perna spiega che nella struttura sono in corso i lavori per la riparazione del trasformatore, la sistemazione di tubature rotte e per fini mese è previsto anche l'arrivo della nuova caldaia che dovrebbe consentire il ripristino definitivo dell'impianto di riscaldamento. I dipendenti della struttura assunti dalla fallita Progetto Sport attendono risposte in considerazione del fatto che nel bando per le offerte economiche non era stata inclusa la clausola di continuità occupazionale. Ci sono delle situazioni che vanno discusse con la nuova cordata, con la regione, con il sindacato perché c'è il problema dei lavoratori che da più di un mese sono qui a fare presidio e a ricordare alla cittadinanza che le naiedi sono chiuse, le naiedi che dovrebbero essere il fiore all'occhiello della città di Pescara purtroppo si trovano in questa situazione e tutti noi vogliamo spingere al più presto per una riapertura immediata. A chi volete lanciare un appello? No, noi siamo ottimisti, siamo sicuri che alla fine troveremo la risoluzione del problema quando ci sederemo con la regione che farà da tramite con la nuova cordata e con i sindacati ci siamo prefissati tutti un obiettivo, quello di fare riaprire la struttura quindi anche facendo tutti un passo indietro alla fine dovremmo trovare l'accordo.